Paolo intanto ripartiamo da Oli Renne che dice a nome dell'Europa non basta mai, dovete fare sempre di più, questa manovra non basta quindi in qualche modo Saccomanni, Letta hanno garantito per l'Italia si faranno privatizzazioni, si faranno spending review all'Europa non basta mai, quanto sangue dobbiamo dare, quante tasse dobbiamo... Precisamente questo è il punto, non basta mai perché siamo ancora vivi quello che non ci perdonano è di essere ancora vivi questo è il fatto, ci vorrebbero vedere morti l'imprenditore veneto non sa che il trattato europeo fiscal compact impone all'Italia il pareggio di bilancio pareggio di bilancio vuol dire lo Stato non spenda e tassi di più se tu prendi un'economia privata e non inietti spesa pubblica che è spesa netta per il settore privato e sottrai beni finanziari attraverso un aumento vertiginoso delle tasse tu uccidi il paziente, cioè gli togli il sangue e gli fracassi il cranio a metà questo è quello che sta facendo l'Europa, il fiscal compact, all'economia privata non solo italiana, greca, spagnola, prima si parlava del sud Europa adesso c'è l'Olanda che sta andando a pezzi la Francia è già a pezzi la Germania si salva solo perché ha questo surplus dell'export ma anche la Germania nel suo mondo dei consumi dei cittadini privati e dei redditi di stipendi sta andando a pezzi allora, rapidamente sulle tasse il disegno europeo è di distruggere l'economia privata italiana togliendo la spesa pubblica, tassando a morte l'imprenditore deve capire che ci vuole un comitato di liberazione nazionale che smetta di pagare le tasse punto, cioè si ha un aumento così informale della spesa pubblica fatto con le nostre mani non c'è altra strada perché l'equivoco sulle tasse fondamentale è che non si vuole comprendere che l'uso delle tasse da parte di uno Stato sano e non di uno Stato economicida come il complesso europeo è quello di usarle per regolare l'economia e regolarla nel senso di abbassarle le tasse non alzarle lo Stato sano usa le tasse in basso andando verso il basso perché l'economia privata ha sempre degli incidenti di percorso e allora lo Stato regolarmente deve abbassare le tasse il paradigma europeo è le tasse si alzano comunque che l'economia vada bene, che l'economia vada male e in questo modo ci ammazzano in questi anni l'equivoco di fondo era che se lo Stato mette a posto e mette in ordine i conti il famoso pareggio di bilancio si sta tutti nel paese del Bengali cioè lo Stato se ne deve fregare di fatto dei cittadini, imprenditori, famiglie, operai, lavoratori deve pensare soltanto a sto pallotto a liere così che si fa? Allora si va alla parabola secondo cui togliendo lo Stato, la spesa pubblica che ripeto è beni finanziari al netto per il settore di cittadini e aziende togliendo completamente di mezzo lo Stato si lascia il settore privato e si spera che sia il settore privato a creare ricchezza e a creare la piena occupazione il settore privato può creare ricchezza e piena occupazione solamente se non esiste lo Stato se non esiste la moneta e se non esistono le tasse e ti do un esempio Assenta Paolo, raccontami quella storia che hai raccontato prima e che, Presidente, eravamo fuori onda, fuori campo, nel backstage quella degli inglesi e del Congo raccontamela bene perché è una storia esemplare Voglio far capire al pubblico, è essenziale far capire al pubblico e agli imprenditori che il settore privato non può creare la piena occupazione e la piena economia se c'è uno Stato, se c'è una moneta e se ci sono le tasse Gli inglesi arrivano in Ghana all'inizio del 800 i ganesi non hanno uno Stato, non hanno una moneta e non hanno le tasse sono in regime di piena occupazione ognuno fa qualcosa tutti hanno un mestiere arrivano gli inglesi e vogliono che i ganesi lavorino per gli inglesi a coltivare il caffè ovviamente i ganesi dicono, non ce ne frega niente noi siamo pienamente occupati non abbiamo bisogno di nulla allora cosa fanno gli inglesi? dicono bene, da questo momento in poi noi, inglesi, il nuovo Stato vi imponiamo una tassa cioè dovete pagarci una tassa su ogni capanna che possedete in che moneta? nella moneta inglese quindi di colpo in Ghana arriva uno Stato arriva una tassa, arriva una moneta improvvisamente tutti i cittadini del Ghana tutti i inglesi che prima erano pienamente occupati adesso sono totalmente disoccupati perché nessuno ha un lavoro che possa permettergli di ottenere la moneta di questo nuovo Stato per pagare la tassa che gli viene imposta di colpo sono disoccupati, ok? la stessa cosa accade oggi se tu hai uno Stato, una moneta e una tassa vuol dire che questo Stato, il monopolista della moneta obbliga tutti i cittadini a lavorare per guadagnare quella moneta per pagare le tasse allo Stato bene, d'accordo lo Stato può assumere solo una quota dei cittadini per dargli la moneta dello Stato con cui i cittadini sono costretti a pagare le tasse e tutti gli altri che non assume cosa fanno? vanno dal settore privato sperando che gli assume il settore privato ma il settore privato li deve assumere pagandoli con la moneta dello Stato perché tutti i cittadini devono pagare le tasse con quella moneta ma il settore privato notoriamente è sempre in difficoltà ha problemi di capitalizzazione ha problemi di investimenti ha problemi di crisi economiche ma soprattutto se lo Stato non gli ha prima dato la moneta dello Stato a sufficienza come fa il settore privato ad assumere tutti quelli che lo Stato non ha assunto? non può farlo d'accordo? ecco perché ecco perché è essenziale per l'economia e facciamoli vedere gli economisti che da 50 anni, 70 anni dicono queste cose Michael Kaleski e oggi Warren Mosley possiamo farli vedere le foto queste cose non sono teorie di Paolo Barnard queste sono le basi della più autorevole economia del mondo se lo Stato non garantisce al settore privato sufficienti capitali di moneta dello Stato per assumere tutti quelli che lo Stato non può assumere e pagarli con la moneta con cui la gente può pagare le tasse il settore privato non potrà mai garantire la piena occupazione e non potrà mai garantire la piena economia ecco perché noi diciamo che l'evidenza di uno Stato che spende troppo poco a deficit è la presenza della disoccupazione grazie 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 grazie